Facciamo uno sculacciamento tipo così? Sculaccio tutto! Oh sì, come godo! Benvenuti nel girone degli avari! Non abbiate il braccino corto, se l'occhio vi chiede di darvela, datela! No, scherzo, sono male. Ah no! Oddio, scusami, mi è partito. Dove? Dove è andato? Di là. Dove? Di là. Di là? Di là. Charlie? Sono qui. Lo stai cercando? No. Ciao amici senpai, benvenuti nel terzo episodio del nostro inferno, dove dovremo cercare la mamma di Locchino nei gironi infernali, perché lei è una peccatrice, peccatrice! Guardate come ho rinominato questo oggettino qui che... Oh! A letto! A letto! Giù a letto, è il tuo posto, donna. No, aspetta, 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 aspetta. Come non tocca? Oh, fai la gelosa? Fai la gelosa? Ah, sì Anna, sì. No, aspetta, men che sei incastrata la maglia dentro di te. Abbiamo tutte le vestite a rete, mi sono incastrate cose di maglia. Vai via! Comunque ragazzi, oggi faremo il girone. Quale girone? Faremo il girone. Dietro voi? Dietro voi? Avari! Avari! Avari che d'avri! Oddio. No, ci stava. No, raga. No, no, piano, 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 piano. Oh mio Dio. Raga, è pericolosissimo qua. Sembra veramente di stare all'inferno. È tutto scurissimo, tra l'altro. Sento di non volervi dare un centesimo. Ragazzi, sono caduta. Qualcuno mi viene a prendere. No. No. Comunque avete notato che Anna ha i capelli e gli occhietti azzurri come noi? Siamo il trio degli occhi blu. Sono circondato di principesse dai occhi blu. Aia! Perché mi dai di fuoco? Già che sono infuocato magari riesco a cuocermi il bacon crudo dentro alla pancia. Comunque, se conoscete uno youtuber che secondo voi è tirchio, avaro, qualsiasi cosa, qualsiasi sinonimo che vuol dire avaro, dovete scrivermelo qui sotto nei commenti e vi metto un cuoricino. Non dite tizio 20. No, scherzo tizio, grazie perché mi offre sempre le pizze quando vengo a Milano. Comunque Anna, ti faccio subito un test. Vediamo se funziona questo girone. Allora, Anna, lo vuoi questo qua? Eh sì. Forza, dai, dammi. No. Comunque mi è venuto di me. Rifallo. No, aspetta, c'era qualcosa dentro. Che schifo. Eh, ho bevuto dentro sta cosa. No, Anna, forse è meglio se non te lo do. Comunque non sai neanche che cavolo è. Te lo mando su WhatsApp, guarda. Ok, ti è arrivato, Anna? Ma che schifo, me l'hai uscito. Io non lo volevo, dai. Cazzo, ho sbagliato il matrimonio. Ragazzi, andiamo. Spada in mano, andiamo. Quale spada? No, eh. No, no, non quella in mano. Ragazzi, andiamo. Andiamo. Non siate... Dividiamoci. Dividiamoci. No, io non divido niente con voi. Oh, cazzo. Mi sento già colpito dal girone degli avari. No, ma, cioè, nel senso... Oddio, no. No, no, abbiamo già diviso l'anime in tre. Cosa dobbiamo fare di altro? Eh, ci sono tre strade, prendiamo ognuno una strada diversa. Io sto andando giù. Io sto andando giù. No, Anna, Anna. Ok, allora io vado giù. Raga, ho fame. Avete qualcosa da mangiare? No. Non c'è il cibo? Dai. No, no. No, no, non ho cibo. Non ho il leggero proprio? No, 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 non ho il bacon. Eh, non ho cibo. Non volevo dire che avevo il bacon. E non ce l'avevo, dispera! No! Cosa? Oh, qui c'è della roba, tutto mio, tutto mio Eh, grazie a Lucifero Che è tutto tuo Ma dove sei finito? Sono morto, sì, sono morto Mi ha esploso un creeper davanti alla faccia Ok, io sto andando giù Sempre più giù Come fa Anna la sera Va sempre più giù Perché io non ci arri? Scusa Raga, ho trovato lo sculaccio a troie della vita No, ti prego, me lo dai? Ti prego Ne ho cinque, ne ho cinque, raga Ne hai cinque, dai, allora dammene uno, ti prego No, no, non ci credo, non esiste knockback dieci No, non te ne do nemmeno uno Dai, Charlie, ti prego Ti prego Charlie, ti prego Picchino, me lo dai, picchino Ma cosa c'è sul naso? Sono diventato Pinocchio Charlie, guarda Cosa che hai? Sono diventato Pinocchio Guarda Dai, ti prego, Charlie, me ne dai uno Ma sei impazzito? Siamo nel gireno degli avari per un motivo, eh? No, dobbiamo cercare la mamma in l'occhio, non c'entra niente Eh, vabbè No, dai, no, no Però seriamente, è veramente Solo devi andare anche nel giro dei bugiardi Guarda, guarda È veramente knockback Ma lo giuro No, sono morta Dai Oh, c'è un altro C'è uno spawner sopra uno spawner Ahia Non ho knockback Come faccio un ever knockback? Dicevi, scusa? No, niente Curacita No, comunque, Charlie, non ho cibo, mi dispiace Non ho cibo, no, 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 cibo Oh, cazzo, quanta roba c'è? No, aspetta No, ma perché non prendo knockback? Non lo so Ah! Ok, distruggiamo tutti gli spawner Secondo me cosa c'avrà da dirvi nel gioco box di oggi? Comunque ragazzi, in realtà, l'altra volta, era uno scherzo quando vi ho detto che era il Nyan Cat, era tutto un montaggio In realtà, quei 12 dischi sono le 12 cassette della mamma di Locchino che ha lasciato prima di suicidarsi Lo so, non bisognerebbe scherzare con queste cose, soprattutto abbiamo Anna qui che ci ascolta Ecco Anna, Anna, Baker? Sì Ecco, visto, è lei Lei ne lascia 13, noi per problemi di budget ne lasciamo solamente 12 di cassette, di dischi Quindi quando finirà la serie, o forse, non lo so, se mi lasciate più di 3000 like, una cosa assurda Anna, vi faccio sentire Minimo, minimo, minimo qua Altri pesci 5000 Minimo qua pesci mie 5000 like A 5000 like vi faccio sentire le prime cassette, cioè quello che dice veramente il disco che ci hanno lasciato I primi due gironi, non scherzo Aspetta, vediamo se veramente funziona questo girone Anna Non voglio neanche sentire la risposta perché non voglio la friendzone, quindi mi sono tolto le cuffie Anna Me la dai Non far la vara Anna, non far la vara So che adesso direi di no Io non ti sto sentendo perché ho tolto le cuffie So che direi di no No, no, no Ma Se non fossimo in questo girone, sono sicuro Oh Raga Raga Che cazzo fai? Aspetta Cosa c'è Anna? Tenta Ho trovato lo sculaccio a troie Hai trovato quello con knockback 10? Sì No Non sono più Ti prendo a pesci in faccia Oh scusa Tu non me la dai e questa è la ricompensa Perché non me l'è data Io ho trovato il disco raga, l'ho trovato Sono bene Però questo che la mamma di Lucchino mi ha lasciato No, niente spoiler Niente spoiler Aspettate di sculacciarli Ma che bello è sculacciarli? Anch'io possiamo superare questi gironi qui semplicemente fa Sì, sì Vaffanculo so parlare Il giro degli analfabeti questo Aia Cos'è? Oddio Eccolo là Presto Vai Cos'è il mo' l'ha fatto? Charlie Anche Anna è bruciata Non lo so Comunque gli sto andando verso L'ultima cassetta Non l'ultima cassetta Qual è? La terza cassetta questa Wow Ciao Ciao No, no Come mi sono salvato? Basta Ragazzi Basta sculacciar C-ci-li Sculacciarli Stai salendo già tu Lollo? Sì, la cassetta sarà solamente mia Sarà solamente mia la cassetta Non ve la Cosa è questo? Oddio Sono i protettori Ecco con chi se la faceva Ecco con chi se la faceva La mamma di Locchino Con i neri Perché sono più dotati Devo tagliarlo questo pezzo Posso lasciarlo? Alla finita Mi complimenti Non è raffinato Mi tocca Aiuto Anna non siamo più nel girone dei lussuriosi Stai tranquilla Non ti tocca nessuno qua E se ti toccano non è per quello Puoi stare tranquilla Tanto non la dai a nessuno in sto girone Look down Ma sei pazzo? Look down C'è il vuoto Il cascato del cileno Che figo è? Mio Sembra l'episodio di Locchino Quando c'è volo l'elmetto del cileno Tra l'altro ragazzi Voi state seguendo Le serie di Charlie e Anna Sui loro canali C'è il mio figlio Locchino Che in realtà sono sempre io Però Non so Molti mi chiedono Ma chi è Locchino? Ce l'ho presente un giorno? No, sono io Ciao Ma perché qua è Anna Sei stata tu No Anna non puoi fare tutto tu Non è tutto tuo Non è il tuo tesore Il mio tesore C'è un anello qua da qualche parte Anna ci sto mettendo tre quarti Quanti cazzo ne ho messi? Ti prego No Anna Uccidila Uccidi Anna Uccidi Anna Sculacciarla Charlie Charlie No veramente Anna hai preso tutti i dischi Anna e se muori? Anna non c'è più niente Anna dove sei andata? Dai Dammi l'Anna Ti prego Mi servono Devo sentire cosa da dirmi la mamma di Locchino Non so perché sei suicidata Va bene mi è suicidata Va a rimettere il disco nel limbo Muoviti Vai Vai Scusa Scusa Veloce Era nel girone Scusa Ah adesso siamo usciti Ah Ti è passata la voglia quindi adesso Sì Me la dai Charlie allora Ragazzi Vi faccio un regalo Lo sculacciatroie 3000 Quello con knockback 10 Ve ne regalerò Uno a testa Perché tutti possono sculacciare Lì C C Quindi questo è lo sculacciatroie Sculacciatroie 3000 Oh Locchino No Locchino L'anima di Locchino Tieni Charlie Uno sculacciatroie Vai al centro Vai al centro Devi fare la palla Tanto di grandezza ci sei Ok pronti eh Dai no stavo scherzando Nino Nino Sei dimagritissimo in questo periodo Soprattutto con quella calza a maglia lì Bellissima Vai Ciao Via Dai Anna Raga quanto è bello Sì ma puoi anche reagire Anna Sculaccia meglio Eh mettiti a 90 Shiftati Anna È stata per baciarmi È molto per baciarmi Guarda Guarda me quanto te l'ho sbattuta lontano Oh mio Dio Wow No no Scusi Ehi Perché sei arrivato a metà campo? Ripigliatela tu non la voglio Facciamo finta che sei l'occhino e tu sei la mamma Charlie No io non ce lo faccio più con l'occhino Devo sempre Fa sempre la cacca Devo cambiargli sempre il panno Pannolino Avevamo detto che il sabato te lo tenevi tu l'occhino Ecco Tu devi tenerti l'occhino No tienitelo tu Io sono cattivo padre Sperma nella pancia Cosa? Locchino tu tappati le orecchie Non puoi sentire Vai via Cosa mi dai Locchino? Non voglio Locchino Locchino lo voglio io No non lo voglio io allora Date Locchino Locchino vattene Charlie Non vuoi che neanche me Sia una brutta troia Vabbè ragazzi Non vuole neanche me Ok adesso tramite la magia del montaggio Riuscirò a non farvi sentire che cosa ha da dirmi Solamente se arriviamo a 5.000 mi piace Vi farò sentire la cassetta Della mamma di Locchino E scopriremo perché Di queste 12 cassette più una bonus Che voi non sapete dov'è Quindi 13 13 reasons why I left Locchino to you Quindi perché 13 ragioni per le quali Ti ho lasciato Locchino a te E mi sono ammazzata Ok Mi sono ammazzata Voi tappatevi l'orecchio Non potete sentire cosa ha da dire la mamma di Locchino Lo scopriremo solo Vive Cioè però sono morte Vabbè Ok Quindi ragazzi se questo episodio vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Arriviamo a 5.000 like Per sapere perché la mamma di Locchino si è ammazzata Vai via Ma tu sei dalla sua parte Non è giusto E siamo sposati Eh sì vabbè Quindi andate nei canali di Charlie Anna che trovate qui sotto in descrizione E scolacciatele per bene Con un bell'iscrizione Facciamo uno scolacciamento Scolaccio tutto Oh sì come godo Che bella invenzione Scusate Grazie a tutti Grazie a tutti